Eh, non lo ha, adesso lo ha, non c'è più niente, guarda, se uno volesse mangiare qualche cosa? Eh, ma c'era tanto di quella gente, vai a casa a mangiare. Anna, 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 ma come sta? Proseguendo bene? Ecco, te lo ho detto, lui è sempre lì. L'hai sentita la messa? Hai sentito come hanno cantato, come l'hanno animata? L'hanno cantato, lei ha fatto la comunione perché è in grazia di Dio. Certo che sono in grazia di Dio, io posso dire che sono in grazia di Dio. Io posso dire che se arriva su e gli dice, ma cosa te l'ho data a fare? Beh, tu pensavi a fare così, lo sapevo già che me lo dicevo. Io dico la vita, io parlo, vero Anna? Anna, io parlo della vita e dico che... Guarda cosa c'è, gira, gira. Guarda, guarda, guarda. Così vediamo quanti mani disponibili a lavorare. Le palline di cocco, come sono?